Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Non ho visto nessuno Qua c'è qualcuno E là dietro ci potrebbe essere qualcuno Anche qui dobbiamo fare attenzione Però non ho sentito rumore di Di macchine poco fa Però noi dobbiamo Controllare lo stesso tutto quanto No per adesso non c'è nessuno Aspettate Con nove persone Mai fatto il nascondino Poi il nascondino con le auto è spettacolare Allora Ma ci dovrebbe essere qualcuno No Dove si sono nascosti Regà Vabbè che È bello spazioso Qui c'è qualcuno No Allora Sì sì Facciamo così per adesso Poi controlliamo Come si deve pure all'interno Ehi Chi ho trovato regà Chi è Chi è Chi è Aspettate Devo capire chi è Ok regà Era Jovi No Sui Può salire con me No no Jovi Non puoi salire con me Aspettate un attimo Comunque ho trovato Jovi Possiamo andare Possiamo andare Io scheretto chi era Perché non capivo Regà Pauro Jovi Il primo Qua dentro non si può entrare Regà Aspettate un attimo No Non si può entrare Se no era un nascondiglio epico Allora Allì c'è qualcuno Forse in quella vietta Sì eh Allora qua non vedo nessuno Ne mancano otto Regà ci dobbiamo ricordare C'è qualcuno No Nessuno che si è nascosto qui Però aspettate Magari sta qui No 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 Non c'è nessuno Ci passa qui? Sì che ci passa Questa 500 Allora Dobbiamo vedere anche qua Regà Vediamo se c'è Qualcuno No Chi è che mascheretta Aspettate Aspettate Su io cattivo Ma che ho fatto Perché sta qua Regà No non credo Non credo Eh qui potrebbe essere Un buon nascondiglio Sapete Sì sì Allora Aspettate I nascondini Con le macchine Sono trollosi Però qua non si va da nessuna parte No Ritorniamo Indietro Ok Eccoci qua Continuiamo il giretto Per di qua Facciamo prima Tutto Tutte le parti Laterali Regà Eh però qui Devo controllare bene Ma non credo Aspettate Aspettate Arriviamo fino a qui E poi controlliamo Ok Partiamo da qua Ehi Chi è Chi è Chi è Regà Aspettate Questo è OSC Leonardo Credo di sì Credo di sì Perfetto Su Riporta La macchina La cortesemente Ho sentito rumore Di una 500 Impossibile Chi è questo Chi sei Sui Addirittura Due in uno Regà Ma che fortuna C'ho oggi Allora Questo forse O è salflash O è marcio Non lo so Questa è notte Gabri mod Sì sì Allora Saliamo su Ok Sui sui Occhio 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 Allora Aspettate Io posso controllare Qua sì Abbiamo trovato No Però non ero sicuro Che era salflash Quello Vabbè Intanto giriamo Regà Poi gli chiedo Quanti Quanti ne mancano Se no rimango Troppo trollato Abbiamo trovato Due suini in uno Regà Ma che fortuna Ci abbiamo oggi Scendiamo giù Qua c'è qualcuno No Sembrerebbe Di no Però dobbiamo controllare Meglio anche là Aspettate un attimo Qui dobbiamo Vedere Aspettate Un pochino pure qua Per sicurezza No non credo Perché siamo andati Tipo qua Però noi dobbiamo Controllare anche Questa villetta Regà Sì Entriamo un attimo Bello comunque Questo posticino Per il nascondino No Qui non c'è nessuno Allora Hai trovato Leo Esal E Gabrimod Ok Ok Quindi manca Tommy Lorenzo Lorenzo Caruz E Non mi ricordo Più Aspettate Aspettate Credo Credo che qua Non c'è più nessuno Sapete Per sicurezza Saliamo pure qui C'è qualcuno Regà No 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 Andiamo dall'altra parte Che lì sicuramente C'è qualcun altro Allora Saliamo su Ok Troppo troppo bella Questa No Non distrutta Non fa niente Dobbiamo vedere No 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 Facciamo come abbiamo detto prima Tutte le parti Le parti laterali Però qua ci potrebbe essere qualcuno No Sì sì Controlliamo qua Controlliamo qui Allora C'è qualcuno No Sembrerebbe di no Avanziamo Avanziamo Vediamo qui Non lo so No Qua sembrerebbe che non c'è nessuno Vero? Dovrei salire sopra qualche tetto Regà Sarebbe fantastico Ok Sì Facciamo Facciamo queste parti a piedi Ma chi sei tesù? Chi è questo regà? Non lo so Su Ah Questo è Gabriele 18 Sì sì Il topolino Abbiamo trovato Gabriele 18 Allora La nostra 500 Rimane là Vero? Spero di sì Speriamo Speriamo Andiamo a piedi Che facciamo prima No Qua non c'è nessuno Vediamo se c'è Qualcun altro qui E poi andiamo a prendere Subito la nostra 500 No Fino a qui Diciamo che Non c'è Cos'è quello? No Distributore Sì sì È verde No niente Andiamo di nuovo a prendere la 500 Regà Oh eccola eccola Non la trovavo più Saliamo su Questa è la mia vero? Sì 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 Vediamo un po' i messaggi Hai trovato Gabriele 18 Ok Ne ero accorto perché ci avevamo La maschera da topolino E adesso possiamo proseguire per di qua Sì sì Qua non ci sono nascondigli Vero? No Qua non credo Non credo Non vedo nessuno Manca Lorenzo Sì sì Lorenzo chissà che nascondiglio Ha trovato Qua ci potrebbe essere qualcuno No Qui non vedo nessuno Regà No no Non c'è nessuno Non c'è nessuno Proseguiamo Aiuto Aiuto Sì sì Proseguiamo per di qua Regà Aspettate Aspettate un attimo Ce la beviamo una bibita al volo Non so se si può nella gara GTA Ok Vediamo No Nella gara multiveicolo sì Nella gara GTA No Non mi chiedete il perché Comunque Guardo un attimo la lista Regà Manca Lorenzo E Caroz Non mi ricordo Non mi ricordo Tanto gli posso scrivere Sì sì Che ho visto qua Ma che sei sui Questo è Lorenzo? No Oh oh Due in uno Questo qua è Caroz Sì sì E qui chi c'è? Nel cespoglietto sì Si vedeva sui Mi dispiace Vediamo chi è Regà la riesco a vedere Chi è? Chi è? Questa è Marcio La fragolina Sì sì Regà manca solo l'Ori Allora Credo proprio di sì Proseguiamo Proseguiamo Vediamo se c'è qualcun altro qua No Non vedo nessuno Saliamo un attimo qua sopra Per sicurezza Ok Adesso gli scrivo A Giovi Chi manca? Sì sì Glielo scrivo ora Regà Ok Giovi mi ha scritto Ho trovato Marcio e Caroz Però l'avevo riconosciuti Però gli ho scritto Chi manca Così almeno siamo sicuri Ma io credo solo l'Ori Vero? Credo di sì Allora qua ci potrebbe essere Perché il nascondiglio Aspettiamo che Che mi risponda Giovi Da nostra direzione Sbagliata Da fastidio E Qua no Perché ho contato qua? Non credo Non credo proprio Non lo so Andiamo per di là Sì sì Controlliamo tutto quanto Vediamo se c'è qualcuno Io qua ho contato Sennò sentivo qualche macchina No Qui non credo ci sia qualcuno C'è spuglietti? No Vediamo un po' i messaggi Sono rimasti Io e Tommy Ah Lorenzo e Tommy Perfetto Non lo so Per sicurezza controlliamo uguale Perché Meglio essere sicuri No 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 Qua dietro Facciamo così Sali 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 No non ce la fa salire Sì No qua non c'è nessuno Questo è un garage? No Però è chiuso No qua non c'è nessuno Allora secondo me stanno proprio al centro Sapete Credo proprio di sì Andiamo di nuovo al centro Oppure qua Abbiamo controllato qua poco fa Eh credo di sì sapete Sì 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 Andiamo al centro Andiamo al centro Quella sicuramente c'è qualcuno Tommy che è il creatore Secondo me Sa un nascondiglio perfetto No Peccato Pensavo che c'era qualcuno Regà invece no Guardate C'è nessuno Si è incastrato? No 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 Allora Eh però al centro è pieno di villette Sì sì Leonardo è crashato L'avevo trovato Spero di sì 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 Regà Allora Non vedo nessuno Lasciamo la 500 là Sì sì In caso respawniamo Non vi preoccupate Ce l'abbiamo lo stesso Ci conviene andare a piedi Allora Qua non c'è nessuno Vero no Eh diventa più difficile La situation Sapete Sì sì No Qua non vedo Nessuno Vorrei andare sopra Qualche tetto ma Non credo che si può eh No di villette Sono finite poi qua C'è spugli? No Mi sembrava una macchina Regà C'è spugli Possiamo dare un'altra occhietta Col cecchino Ma non credo eh No Qui no Eh devono essere giganti eh Allora Mi sa che tra poco scattano gli indizi eh Qua c'è qualcuno? No Qui abbiamo trovato Marcio poco fa Però non vedo altre macchine E questo è il problema No Qua non c'è nessuno Abbiamo già controllato Non lo so raga Non ho idea Aspettate Scrivo indizi Allori Ok raga C'è qualcuno C'è qualcuno Sotto al punticello No Qui ci potrebbe essere qualcuno Sapete Allora la 500.000 dove l'ho lasciata? Io ho scritto a Tommy e Lorenzo di Darmi qualche indizio Acqua Sono lontano raga Sì sì Siamo lontani Tommy Mi hanno scritto due volte acqua Ah no no Eccolo Tommy Stava qua sotto Sì sì La 500 nostra raga Dove l'abbiamo parcheggiata? Che non mi ricordo più Possiamo anche respawnare Però credo che l'avevo messa qui Era qua sopra eh Aspettate Io mi ricordo che l'ho messa qua raga Ma mi sa di no Eccola eccola Sì sì Questa è la nostra Eccola qui Eccola qui Allora mi hanno scritto acqua Quindi Là non ci sono Dove sono nascosti? Non lo so Non lo so Aspettiamo che scrivano fuoco raga Facciamo un giretto Sì sì Ah qua non abbiamo controllato No no Queste sono Scusate Non avevo controllato io Pensavo che avevo visto tutto Invece no Ok ok Potrebbero essere qui Comunque Vedete No qua non c'è nessuno Qua abbiamo visto Queste villette Non le abbiamo controllate No Vediamo un po' che M'hanno scritto Acqua Lorenzo non sta qui Vediamo Tommy Tommy Ci ha scritto di nuovo Acqua Sì sì Quelli Che sono Raduno Dei suini C'è lì Sì sì Eh qui Qui potrebbe essere Un monna scondiglio Raga Qua ci sale La 500 Però Che stanna fa Non lo so Non lo so Non lo so Qua Secondo me stanno qua Allora vediamo Non c'è nessuno Qua sotto Non c'è nessuno Però ci sono anche queste villette E nessuno Che mi scrive Fuoco Che sta spara Non lo so Raga Non ho idea Vediamo Vediamo queste villette Comunque No Qua non c'è nessuno Raga Se non mi scrivono fuoco Significa che Non sono nemmeno qua E dove si sono nascosti Qua ci sono altre villette Centrali Sì No Aspettate Fuoco Allora Lory sta qui O sta qui O dall'altra parte Che dite Dove sta Lorenzo Dove sta Dove sta Eppure è una macchina Gigantesca E non si trova Andiamo dall'altra parte Sicuro sta di qua Allora Cespuglio Questo è gigante Di cespuglio No 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 Si vedeva la 500 Sì È impossibile Qui Aspettate Vediamo controlla No Li abbiamo già visto Entriamo qua No Non c'è nessuno Qui Qui non c'è nessuno Regà Dove sta Se mi ha scritto fuoco Qui non c'è Aspettate Faccio finta Di averlo visto No regà Qua non c'è Mi allontano Oh Guarda che Ti ho visto Chi è questo Chi ho trovato Oh guarda Lo che non scende Che clacson C'ha Regà Un clacson Leggermente Buggato Ma chi ha trovato Chi è Voglio scoprire Chi è Oh è l'orio E' Tommy Regà Perché mi sa Tutte e due C'aveva una maschera Al suino Adesso però Manca Tommy E questa Oh regà Forse sta qui O sta per di qua O sta esattamente qui Aspettate Perché qua Non abbiamo controllato Sì sì Potrebbe stare qua Allora no Qui no Ce la fa salire qua No Volevo salire qua sopra Niente Potrebbe essere qui Però non mascheretto Niente Siamo a 24 minuti Nascondino Regà Sto guardando a registrazione Non lo so No Qui Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Secondo me sta In quelle vie Lì regà Dove indico col dito Respawniamo Così abbiamo di nuovo La 500 Ok Eccoci qua Con la nostra Bella 500 Nuova Il problema Che se mi scrive fuoco Dobbiamo cercare lì Aspettate un attimo Dove eravamo Rivasti Che non mi ricordo più Abbiamo controllato Qua Non mi ricordo Non mi ricordo Comunque non ha Scritto fuoco Quindi possiamo stare tranquilli Scendiamo di nuovo Perché queste villette Non le abbiamo Controllate No 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 Qui non vedo nessuno Regà Dove si è nascosto Tommy Secondo me c'è un garage Che si apre Però mi avrebbe Schritto fuoco Per adesso non ci siamo Nemmeno avvicinati A Tommy E questo è il problema Vediamo qua Beh qui si vedeva Se c'era Zitti Fuoco Ah Lorenzo Mancava Allora ho trovato Tommy Regà Lorenzo Sta qui C'è qualche garage Che si apre Guardate Lorenzo Che ha vinto Il nascondino Allora Mi ha scritto Fuoco Calcolando Che ci mette 5 secondi Ci diamo Andare il messaggio Lui mi ha scritto Fuoco Esattamente Qui Allora Può essere Che mi è sfuggito Vediamo Fuoco Ah ma tutti e due Mi hanno scritto fuoco Allora Chi ho trovato Non lo so Sì Secondo me è il caso Di ricontrollare qua No E allora è quella villetta lì Qua non si può aprire Il garage Ricontrolliamo qua Regà Per sicurezza Che dobbiamo fare Chi è Veramente 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 Sui Chi era Tommy Ha vinto Tommy Il nascondino Ma non c'eravamo passati qua Mi è sfuggita questa 500 Credo di sì Credo di sì Comunque Respondiamo Comunque Tommy Il creatore Ha vinto il nascondino Ma siccome È il Creatore Ha vinto il nascondino Lory Dove stavano Stavano qua Regà Non mi ricordo più Eccoli Eccoli Il raduno dei suini Regà Guardate che meraviglia Allora Io mi parcheggio E Dove ci parcheggiamo Ah Io lo parcheggio Qua Sì Entriamo tutti Qua dentro No L'hanno chiusi qua Non riescono più A uscire Regà Poverini No No Stiamo fuori Stiamo fuori Che è meglio Ok Aspettate Che attivo i nomi Ok Regà Il nascondino Grazie Molto Gentili Mi fate parlare Comunque Il nascondino Finisce qui Anche io devo fare un po' di casino Non è giusto Ok Stavo dicendo Il nascondino Finisce qua Fatemi ringrazia Tutti i suini Soprattutto Tommy Che ha creato Questo nascondino Fantastico Con la 500 Se magari Carica GTA Saluto tutti quanti Saluto Anzi Ringrazio Nottegabrimod Karuz Salflash Marcio Gabri 18 Xorenzovitic E Mozjovix E avrei partecipato Ah pure OSC Leonardo Rio Ringrazio anche Lui che è crashato Comunque Se vi è piaciuto Questo nascondino Estremo Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale Passate su Tutti i canali Che trovate In descrizione E noi ci impecchiamo Al prossimo Ciao Oh no Ciao Grazie a tutti.